L'ospedale di Parigi, fondato secoli prima della cattedrale di Notre-Dame, in fondo alla strada. Gli ospedali non erano ancora quello che intendiamo noi. Era più facile morirci dentro che uscirne sani. I templari usano le fogne del palazzo per smerciare le opere d'arte rubate a Notre-Dame. Dovete entrare e recuperarle. Grazie a tutti. Oh, merda! Maledizione! No, no, no! 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 No, no! No, no! No, no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.